Un altro problema, acquisti online o in presenza? Siamo in collegamento, lo ringraziamo davvero con il giornalista, il collega Luigi Carofalo, direttore di Cybersecurity Italia.it. Salve Luigi. Allora ti chiedo subito, tu che hai una conoscenza approfondita di tutto quello che sta accadendo. Innanzitutto, quest'anno cosa acquisteranno e cosa stare attenti nel momento in cui andiamo a comprare online magari? Risparmiamo ma stare attenti, è vero? A cosa? Stare attenti alle truffe, alle truffe online. La truffa più in ascesi in questi giorni in cui la maggioranza di noi sta aspettando dei pacchi è una truffa che avviene attraverso il caro e vecchio SMS. È arrivato anche a me, ci viene detto attenzione il pacco che lei sta aspettando è stato bloccato, vado a cliccare su questo link. Ebbene è capitato anche a me, ho cliccato su questo link ma nel momento in cui stavo per aprirlo mi è venuto in mente che era una truffa online. Allora, attenzione, quando riceviamo questi SMS in cui con fretta ci viene chiesto attenzione il pacco è stato bloccato, facciamo un passo indietro, non apriamo nessun link e soprattutto non diamo i nostri dati della carta di credito, i dati anagrafici, ma facciamo semmai vedere questo SMS ad un altro componente della famiglia più esperto. Altre un'email truffa può arrivare anche da un nostro contatto personale, da un collega. Per quale motivo? Perché questi criminali informatici, perché sono tali, riescono ad entrare nelle email dei nostri contatti e ad inviarci quest'email truffa. Quindi prestate attenzione, seguite questi facili consigli e non andiamo subito a digitare e a dare i nostri dati della carta di credito. Ecco Luigi, ti chiedo invece se io voglio fare un acquisto con maggiore sicurezza, un po' paura, vado online, c'è qualche elemento che mi può garantire quel portale, quel negozio online? Diamo un suggerimento a casa in queste ultime ore, se voglio fare un acquisto all'ultimo minuto, cosa devo stare attento? Tre facili consigli. Innanzitutto guardare la correttezza dell'indirizzo web del sito. Guardare innanzitutto se accanto a questo indirizzo web c'è una sigla HTTPS, significa che il sito è sicuro ma questo non basta, perché il sito può essere al sicuro ma non è al sicuro dai criminali informatici. E allora il consiglio che diamo è cliccare sul lucchetto che troviamo accanto. Ebbene, cliccando su questo lucchetto noi andiamo a vedere che questo sito ha diciamo un disco verde, è stato certificato, allora è realmente sicuro e possiamo andare a vedere altre informazioni utili, quindi il nome dell'azienda, la sede legale e anche il numero di telefono. Un ladro non lascerebbe mai il suo numero di telefono. Grazie, grazie per questi consigli.